Ho visto che c'è stato un incontro ravvicinato tra Draghi e Vittorio Sgarbi. Si è parlato di una... mentre stai smanettando sul tuo cellulare, che cosa stai facendo con Draghi? No, semplicemente avevo il telefono dove tengo gli appunti e si è acceso alla luce perché il telefono era sul punto di morire, è morto poche ore dopo e oggi ho un super telefono potentissimo che dopo 20 ore mi è stato dato. Lui ha detto ma non è che mi stai riprendendo, dico no, sono talmente narciso che lo farei con me, non con te devi prenderli. E quindi, ma diciamo questo dialogo di persone che si vedono e la cui tese è immediata perché aveva gli occhi che brillavano, che diceva devi riaprire i musei il sabato e la domenica, devi aprire i teatri, dando il contingentamento rispetto a quello che loro non sono stati in grado di fare, si devi certamente sì. E gli ho regalato questo libro che lui ha molto... ha guardato con attenzione che è il libro di mio padre, quattro libri di mio padre, che parla con mia madre dopo la sua morte e su cui ci sarà il film di Pupiavatti domani sera in televisione. E allora mi ha detto vorrei una dedica, ma io l'ho fatto mio padre, però mio padre era un uomo talmente dolce e gentile, farmacista, si sarebbe fatto sicuramente vaccinare che mi è sembrato bello che il dialogo fra due persone riguardasse non i fatti contingenti ma le cose eterne. Quanto la questione generale, su cui io non posso che essere d'accordo con te, ed è evidente che Draghi è un commissario che vale come tutto il CTS, dove non c'è un solo virologo, è un commissario per l'economia e quello che lui ha detto a noi, ha detto al Parlamento, che non scioglie le camere perché le scioglie Mattarella, è o Draghi o Draghi, o Draghi o voto, per cui non ha senso non votarlo, se non è Draghi sarà Draghi o sarà uno come Draghi. Però ecco l'ultimo punto che volevo, tu hai detto, generalmente i partiti hanno presenze di basso livello, però non dipende dai partiti, è più grave la cosa, dipende da una legge elettorale e dalla difficoltà che le persone come te, le persone che hanno qualità, si candidino, quindi è in partenza, i partiti mettono quelli che hanno. Io parlo anche di una struttura dirigenziale.